Sono veri e propri frammenti di teatro quelli che rimarranno in mostra nei corridoi di Palazzo Panciatichi, sede del Consiglio regionale toscano fino al 24 marzo, istantanei e particolari però perché ritraggono le scene di alcuni spettacoli portati in teatro dalla Compagnia della Fortezza del Carcere di Volterra. Questi infatti sono i detenuti del carcere che partecipano al laboratorio teatrale e ogni anno realizzano una pièce. I fotografi Luigi Danzi e Francesco li hanno seguiti per due anni realizzando questa mostra e misurandosi con una realtà diversa dalla loro. Il primo impatto è stato molto emozionante perché non abbiamo avuto mai la possibilità di poter accedere all'interno del carcere per cui è stata una cosa sia per noi ma anche dalla controparte, è stata una cosa emozionante. Quella del carcere di Volterra è una compagnia solida nata nel 1988 e alcuni detenuti che hanno cominciato per gioco ora sono diventati attori professionisti. È un modo per rientrare, reinserirsi e scoprire anche in loro stessi delle qualità che forse non avrebbero mai scoperto se non ci fosse stata l'occasione, tra virgolette, di andare in carcere. In Toscana i laboratori teatrali sono 12 e il provveditore regionale alle carceri, Calmero Cantone, invita la politica a prendersi maggior cura di queste esperienze sostenendole anche economicamente. Il laboratorio teatrale su questo ha una valenza in carcere straordinaria e quindi merita di essere sostenuto sia sul versante della formazione sia sul versante del sostegno a chi lavora, al teatrante che porta il proprio contributo dentro le mure.